Inizia un ciclo dedicato a Dante e a Rezzo. Per i 700 anni di Dante la società storica non poteva mancare questo appuntamento. Anche se il ciclo è rimasto nel cassetto per quasi un anno, l'avevamo concepito nel 2020, era in calendario per la primavera 2021, poi non abbiamo neanche potuto iniziare. Una conferenza introduttiva di Gian Paolo Scharf, che è uno studioso del 2300 a Retino, ma anche uno studioso di levatura nazionale, sui rapporti e relazioni tra Rezzo e Firenze dall'inizio del 200 alla morte di Dante Alighieri nel 1321. C'è una sorpresa perché approfondendo l'argomento questi rapporti si sono rivelati meno conflittuali di quanto comunemente si crede. Allora vi parlerò dei rapporti fra Rezzo e Firenze nel 200. Diciamo subito i rapporti politico-militari, politico-diplomatici perché già di questi ci sarebbe da parlare per ore e voglio dire, se poi ci mettessimo anche quelli economici che non furono certo da meno o quelli culturali, farebbero un paio di libri. Quindi ci limiteremo questo. Ci limiteremo anche un periodo significativo, un secolo e poco più, insomma. Partirò dal 1203, data significativa, poi vi dirò perché. In omaggio a Dante, arriveremo al 1321, in omaggio a Dante e alla Signoria di Guido, anche se in realtà la storia per quanto mi riguarda finisce più o meno nel 1314. Ecco, gli ultimi sette anni non sono successe grandi cose. Allora, da cosa possiamo parlare? Dal fatto che, appunto, la principale novità di quello che vi dirò l'ha già anticipata Luca, cioè che questo rapporto non fu così come viene presentato normalmente, come viene spontaneo pensare, come viene anche naturale immaginare con un certo teologismo. Cioè, una lotta impari fra due acerrime nemiche che poi finisce con la sconfitta del Luna e la sottomissione della sconfitta alla vincitrice. Cioè, ecco, sì, le cose sono andate a finire così, ma non dovevano per forza andare a finire così e almeno nel 200 e fino al 1314 non furono sempre improntati in questo modo i rapporti fra le due città. Possiamo dire che era un rapporto quasi fisiologico, perché vedendo la cartina si vede che sono due città vicine, due città vivaci, vitali, adesso di dimensioni molto diverse, ma tutto sommato, quando partì la grande rincorsa demografica di Firenze all'inizio del XII secolo, la realtà erano più o meno uguali. Questa fisiologia però nasconde una piccola macchia. In realtà i due territori non confinavano, se non credo in un punto, perché c'era di mezzo un altro territorio, quello fiesolano. Però il fatto che Firenze sia impadronoista e molto presto, non solo della città di Fiesole distruggendola, ma anche dell'intero territorio che corrispondeva, almeno nelle loro intenzioni, alla diocesi, fece sì che le due città vennero presto a contatto. Non era scontato neanche il contrasto, appunto, perché almeno nel XII secolo c'erano state numerose lotte che avevano visto Firenze e Arezzo insieme contro altri nemici, per esempio Pisa e Lucca, in un tentativo di occupare gli spazi che la scomparsa, molto tarda in realtà, del forte potere marchionale sulla Tuscia aveva lasciato liberi. Quindi non era scontato che dovessero stare una contro l'altra. Prima occasione seria di contrasto è negli anni 70 del XII secolo, quando c'è il tentato trasferimento della sede fiesolana, sede diocesana fiesolana, da Fiesole a Figline. Il vesco di Fiesole e gli aretini, per farla breve, vorrebbero questo trasferimento, si oppongono invece Firenze e gli ubertini, che essendo posizionati a metà strada preferivano, appunto, che Fiesole rimanesse dove era. E quindi, appunto, è un momento di scontro. Però è l'unico vero scontro di tutto il XII secolo. Quindi la nostra storia parte dal XIII, dal 1203. L'anno è importante perché c'era già stata comunque, a fine XII secolo, una sociasas dusce che voleva essere nei fatti una specie di lega lombarda in Toscana, sponsorizzata però dal Papa direttamente, non venuta dai comuni. E questo la dice lunga perché, ovviamente, quella lombarda fu molto più attiva perché erano i comuni stessi a promuoverla. Quella della Toscana, voluta dal Papa, sì, insomma, che faceva comodo bene, poi la mollano. Però, in questo modo, Arezzo, Firenze e molte altre città si trovarono insieme alla fine del XII secolo. Quindi, quando arriva il 1203, in effetti, la sociasas non era scomparsa nominalmente. Di fatto, in realtà, nessuno più ci faceva caso. Per questo Firenze e Arezzo hanno deciso di concludere un trattato piuttosto importante, il 1203, che è un trattato che riconosce una certa supremazia. Nelle parole, no. Quello che c'è del trattato, insomma, non è molto eloquente. Però, nei fatti, riconosce una certa supremazia. Sì, a Firenze, ma ad Arezzo conviene perché le lascia mano libera nella sua espansione che, in quel momento, non è certo verso Sud-Est, insomma. E, in cambio, Firenze manderà due podestà. Proprio in questi primi anni, i pieni podestà fiorentini ad Arezzo, appunto, sono del 1203 e, se non sbaglio, del 7, una cosa del genere. Perciò c'è una, subito, una veloce manifestazione della presenza politica fiorentina. Naturalmente il podestà, ufficialmente, era una persona super partes, non doveva prendere parte delle lotte politiche, non doveva neanche sponsorizzare troppo apertamente la città da cui veniva, però, insomma, avere un fiorentino che reggeva il comune di Arezzo qualcosa voleva dire. Nel 1207, appunto, Firenze fa guerra a Siena perché la vera nemica per tutta la prima metà del 200 e anche, almeno fino al 1260, di Firenze è Siena. Cioè, questa guerra è importante. Gli aretini partecipano a questa guerra con i fiorentini e partecipano soprattutto militarmente alla destruzione di Montalto Berardenga che agli aretini interessava perché, comunque, per quanto territorio senese, era di Occio di Arezzo, quindi distruggere un castello che poteva essere fastidioso non gli dispiaceva. Continua naturalmente i podestà fiorentini in questi anni, dopo il VII, e hanno in genere un prevalente allineamento chibellino del resto, però in questo momento anche Firenze era schierata dalla parte chibellina. E poi c'è naturalmente la venuta in città di Ottone IV che dimostra, insomma, un certo schieramento politico di Arezzo in quel momento abbastanza vicino a quello fiorentino. Non sono certo ancora gli anni di Enrico VII quando invece stare con o contro l'imperatore vorrà dire una scelta di campo essenziale. La prossima tappa di questo percorso è il 1222 perché Arezzo, in effetti, quest'anno conclude degli accordi anche con Siena. Tuttavia, questi accordi, che potrebbero essere quindi un po' ambivalenti, ce li abbiamo con Firenze e ce li abbiamo con Siena, non sono quelli prevalenti perché appunto pure questa alleanza fra Siena e Arezzo operativa e funzionante quando poi però si arriva al Rederazione e nel 1230 Firenze riprende la guerra contro Siena chiama l'alleato aretino a combattere contro Siena i stesi fanno di tutto veramente per evitare, scongiurare questa cosa che sarebbe sicuramente stata molto pericolosa chiamano per esempio due podestà aretini a Siena di seguito non era una cosa frequente mandano delle spie e addirittura corrompono probabilmente questa fonte è molto carina perché c'è il pagamento nei libri di Bicchern hanno corrotto un membro del governo aretino perché parlasse per Siena e questo però non ha effetto perché alla fine Arezzo comunque va in guerra contro Siena con Firenze però questo ci dimostra una cosa fondamentale è chiaro che nel regime aretino a questo punto era spaccato era spaccato in due, era bipartito e non era certo monolitico questo si capiva già nel 1222 quando la prima lista di consiglieri è rigidamente bipartita in due alleanze diciamo così, partiti sono ancora protopartiti non si definiscono ancora né Ghibellini né Guelfi ma si definiscono la parte dei Bostoli e la parte dei figli di Tarlato quindi chiaramente sono l'embrione dei futuri partiti Guelfo e Ghibellino ma in questo momento ancora non si avviscono tali questo cosa vuol dire che naturalmente nei rapporti politici la presenza di due partiti ad Arezzo così fortemente contrapposti e anche quasi equivalenti voleva dire moltissimo ci si poteva collegare al partito giusto e andare contro quell'altro nel 1231 è il Papa che impone una pace fra Firenze e Siena e anche Arezzo alla fine aderisce a questa pace però da notare che viene elencata fra gli alleati di Firenze il Papa provò in ogni modo a staccare Arezzo dall'Alleanza Fiorentina perché appunto sembrava molto squilibrata la situazione mentre invece probabilmente in quel momento vedere Siena Arezzo è una parte Firenze è un'altra poteva bilanciare la situazione provò e fece pronunciare una celebre scomunica delle magistrature fiorentine nel Duomo di Arezzo era una mossa molto importante insomma una città che si prestava a pronunciare la scomunica per le magistrature l'interdetto non mi risulta perché come sapete su una città si butta l'interdetto sulle persone sulle magistrature si fulmina la scomunica insomma comunque voleva dire in qualche modo una condanna una partecipazione della condanna però tutto questo non scosse l'alleanza e l'amicizia fra le due città appunto la mossa non è besito anche perché probabilmente ad Arezzo l'Alleanza Fiorentina faceva comodo perché lasciava sostanzialmente mano libera contro Cortona che già in questi anni gli anni 30 Arezzo stava iniziando a cercare di sottomettere ricordiamo che Cortona sorgeva nella diocesi Aretina si è parlato di una possibile diocesi alto medievale insomma sta di fatto che comunque nel tardo medievo fino al 1325 se non ricordo male non esistono diocesi di Cortona e quindi Cortona è un diocesi di Aretina quindi nominalmente deve riconoscere non solo la supremazia del Vescovo ma anche in qualche misura la prevalenza della città egemone Cortona però non era senza alleati proprio in questa occasione iniziò a essere difesa anche troppo interessatamente da Perugia e quindi qui si rivela un altro dei possibili attori della competizione insomma non c'erano solo Firenze Arezzo e Siena ma nel gioco di poteri di questa zona entrava anche Perugia negli anni 40 comunque prevalse ma non solo da Arezzo un'influenza imperiale abbastanza marcata siamo gli anni di maggior potere forse non gli anni d'oro però gli anni in cui si fece più sentire Federico II in Italia culminarono con la notta battaglia di Corte Nuova con la distruzione del campo imperiale vicino a Parma la cattura di Renzo presso Modena Renzo era il figlio di Federico II insomma ampli scontri però tuttavia questa immagine che ci ha consegnato la storiografia è valida solo fino a un certo punto per tutta Italia e più dell'Italia del nord la Toscana negli anni 40 è fedelissima all'imperatore non si perita di sottolineare il fatto che Firenze in prima battuta non vuole mettere in discussione quello che il imperatore vuole fare e quindi queste podestà che ci sono negli anni 40 ad Arezzo sono spesso di nomine imperiale quindi funzionari che vengono nominate dall'imperatore che non vuol dire che venissero sempre dal regno naturalmente potevano essere cittadini di altre città italiane ma fedeli all'imperatore e del resto ci sono podestà di nomine imperiale anche a Firenze molti meno prosegue dall'archivio di stato di Arezzo la conferenza della società storica retina su Arezzo e Firenze con un confronto che va dal 1203 al 1321 uno degli anni importanti è il 1249 ad Arezzo scoppiò la guerra civile e finalmente i due partiti ormai definiti stabilizzati Guelfi e Chebellini vennero alle armi in maniera diretta anche il celebre la celebre immagine delle lotte politiche e degli esuli per la prima metà del 200 a mio avviso per Arezzo va un po' sfumata è vero che San Francesco viene a predicare caccia e diavoli però insomma era comunque un modo di fare la lotta politica che era abbastanza normale anche in tante altre città e soprattutto che si risolveva in genere abbastanza presto ma è col mio 249 che le cose cambiano l'acconvolgimento innanzitutto è regionale perché Guelfi e Chebellini non vuol più dire solo quelli della città ma quelli dell'intera regione se non addirittura delle regioni vicine e in secondo luogo le cose non si risolvono con una breve zuffa e poi tutti di nuovo a casa insieme a mangiare magari alla stessa tavola e quindi questa guerra vede in primo luogo sconfitti i Guelfi che si rifugiano nel contado e iniziano a fare la guerra da fuori alla città una costante della strada di Arezzo come penso sappiate negli anni successivi capitano molto spesso e questo rendeva naturalmente insicuro il territorio della città e quindi si arrivava poi si cercava di trovare una pace che arriva ma non subito intanto le due parti si accordano ognuno con una città esterna i Guelfi con Firenze che a questo punto si è dettivinativamente schierata e i Ghibellini con Siena i due accordi poi vennero inovati anche nel 1354 qualche anno dopo i Guelfi addirittura nell'accordo con Firenze i Guelfiaretini si impegnavano a sottomettere Arezzo o meglio a riconoscere la supremazia fiorentina se avesse preso il potere ad Arezzo e Firenze in realtà aveva appena subito un primo mutamento politico non indifferente era nato il regime del primo popolo e il governo popolare era un po' insofferente ai confronti dei fazioni che non vuol dire che non ci fossero e anzi fossero attive ma non erano più quelle che governavano o dettavano sempre legge infatti questa questa promessa in realtà non viene mai messa in pratica Firenze non ha più interesse in questo momento a perseguire fino in fondo questa diretta sottomissione e il popolo tutto sommato voleva il popolo come sappiamo è un concetto politico è un partito anche lui in un certo senso che non si deve immaginare il popolo degli artigiani e dei piccoli lavoranti ma soprattutto i grossi commercianti insomma i proto industriali ecco voleva la concordia sociale perché serviva ovviamente per i traffici quindi sia quello fiorentino sia quello poi quando ci sarà aretino cercano tendenzialmente la pacificazione sociale quindi l'anno dopo e questo è un fatto significativo 1355 ci fu ad Arezzo un colpo di mano guelfo i guelfi che erano stati riammessi grazie a questa pace a questo accordo e alla responsabilizzazione della città di Firenze ne approfittano perché c'è un esercito fiorentino che sta andando a soccorrere l'orvieto prendono il potere e cacciano i ghibellini ma a Firenze questa cosa non sta bene pur essendo retta nominalmente dai guelfi in realtà il governo di popolo non vuole la prosecuzione di una lotta e quindi fa rimettere a forza i ghibellini in città questo appunto è significativo di un clima politico molto particolare diciamo concepibile solo appunto energia del primo popolo e questo giustifica quello che avviene nel 56 forse l'anno fondamentale del 200 a retino dal punto di vista politico naturalmente che è la nascita del primo popolo anche ad Arezzo lo chiamiamo primo per omaggio quello fiorentino in realtà i due sviluppi sono un po' diversi ma comunque è la prima stagione popolare del governo aretino è ovvio che questo popolo prendeva le mosse da quello che era successo a Firenze ed è ovvio anche dall'impostazione che era principalmente fondata sulle arti e sulle abbiamo molti pochi documenti però quello che sembra di capire chiaramente che era fondato un governo di popolo fondato sulle arti quindi una rappresentanza politica delle arti mentre in altre città di popolo per esempio Asti erano le compagnie militari o i rioni a strutturare il governo di popolo quindi non era scontato che fossero sempre le arti noi abbiamo in mente il modello fiorentino quindi popolo uguale arti non sempre ad Arezzo sì naturalmente perché il modello che viene importato è quello fiorentino e tuttavia ci tengo a precisare che si nasce sponsorizzato dai fiorentini che appunto vogliono un governo tranquillo di popolo eccetera imitato dai fiorentini ma ha uno sviluppo autonomo non si può dire un calco esatto una copia di quello che avviene a Firenze nel 1258 l'alleanza che era stata fino adesso abbastanza lunga fra Arezzo e Firenze viene messa a dura prova perché gli aretini fanno un colpo di mano contro Cortona la celebre notte del 2 febbraio mi sembra in cui gli aretini conquistano Cortona approfittando del fatto che tanto è Ghibellina chi vorrà dirci qualcosa e invece i fiorentini non proprio ripeto perché lo schema Guelfi e Ghibellini in questo momento non è così valido non sono d'accordo quindi naturalmente non intervengono non vanno a combattere direttamente l'alleato però fanno una spedizione punitiva nei castelli del Casentino e distruggono il casello Vescovile di Gressa perché hanno ben capito che in realtà chi ha voluto questa operazione non è che gli aretini si siano fatti abbindolare c'era sicuramente qualcuno che voleva la conquista di Cortona ma chi ha organizzato il tutto è stato il vescovo Guglielmino degli Ubertini alla fine comunque il comune cerca l'accordo con Firenze scusandosi di quello che era successo in pratica alcuni aretini andarono a distruggere il castello Vescovile di Gressa cioè parteciparono a una spedizione punitiva dei fiorentini contro Arezzo che in realtà era diretta contro il vescovo quindi è abbastanza significativo e comunque la sede di potestà fiorentini continuò nel 1259 attestata ad Arezzo una guarnigione fiorentina che doveva servire per garantire la sicurezza del popolo eccetera però insomma c'erano dei sondati fiorentini distanza qui una città non solo formalmente ma di fatto libera però insomma la presenza dei militari di un'altra nazione sapete bene è sempre una serie ipoteca alla libertà e alla democrazia di un'altra nazione il vescovo a questo punto è abbastanza in disaccordo col comune vorrebbe chiaramente rompere l'alleanza vorrebbe allontanarsi dai fiorentini e quindi pronuncia una nuova scomunica contro i fiorentini dovuta alle pressioni papali certo però insomma si presta questa cosa in cattedrale e scomunica il magistrato delle fiorentine che avevano giustiziato l'abate di Vallombrosa tra l'altro è una cosa che risaliva già qualche tempo prima l'abate di Vallombrosa era un pavese tesoro beccaria però pur essendo abate era molto attivo politicamente e come dicono le fonti era ghibellino molto e quindi a un certo punto aveva diciamo in qualche misura oltrepassato quelli che erano i propri compiti e era stato arrestato e giustiziato dalle ammettate fiorentine però questa è una cosa che nel medioevo non si poteva fare insomma un abate è pur sempre un abate la parte della chiesa può essere giudicato solo da da un tribunale ecclesiastico di conseguenza si attirava una scomunica ma nessuna città si prestò a pronunciare questa scomunica e fu pronunciata nel Duomo di Arezzo dal vesco del Duomo penso nel senso che ancora non era finito però penso che fosse già agibile l'anno successivo è un anno piuttosto importante come sapete nel 1260 c'è la battaglia di Montaperti e sottolineiamo che gli aretini partecipano alla battaglia di Montaperti con i senesi con i fiorentini e quindi vengono sconfitti quindi significativamente le due principali battaglie della Toscana duocentesca Montaperti e Campaldino vedono gli aretini tutte e tutte le volte da parte degli sconfitti insomma è purtroppo un'eredità abbastanza pesante a gestire c'è da dire che però molti esuli aretini che non si trovavano nel regime di popolo che non si trovavano comunque nel guelfismo relativamente moderato di questo regime erano fuori dalla città e parteciparono alla battaglia nelle file dei senesi quindi gli aretini furono da entrambe le parti fra questi ci doveva essere anche il vesco gugliano degli ubertini non abbiamo certezze però insomma se non ci fu fisicamente ci fu con lo spirito sconfitta fiorentina che non era attesa sparigliò un po' le carte tutta la regione Arezzo però è significativo perché ebbe l'unico governo popolare di vago orientamento guelfo che resse alla grave sconfitta fra i pochi in Toscana perché persino Firenze dovette cedere a Ghibellini e per un certo periodo fu governata da un'elite Ghibellina e solo nel 1262 gli esuli e il vescovo poterono rientrare quindi dovevano passare due anni con una serie di accordi tenuti nel corso degli anni e soprattutto con l'appoggio dei senesi e dei mercenari di Manfredi Manfredi che aveva inviato corpi di spedizione per partecipare alla battaglia di Montaperti aveva queste truppe che stazionavano in Toscana e quindi le utilizzò anche per occupare in parte militarmente Arezzo anche qui si trattava di una presenza di una guarnigione però insomma non è una cosa da sottovalutare probabilmente questi mercenari si è sempre detto che erano mercenari tedeschi sì può darsi non ci sono prove nelle fonti che quella guarnigione c'è gli annali retini sì che dicono a un certo punto che i tedeschi uscirono però appunto non dice quanto sono entrati quindi magari nel frattempo la guarnigione era cambiata ecco con la storia però bisogna sempre stare un po' attenti Manfredi indubbiamente per qualche anno è l'arbitro non solo della nostra città della politica della nostra città ma anche un po' di tutta la Toscana nel 64 comunque c'è una stabilizzazione c'è una pace interna che rende le cose più tranquille e appunto come dicono gli annali nel 1266 i mercenari tedeschi furono espulsi non si capisce bene per quale motivo probabilmente non erano più necessari forse insomma era un contraccolpo della sconfitta definitiva di Montaperti di Montaperti scusate di Benevento la battaglia in cui Manfredi perse la vita e comunque apparentemente il regime non subiscosse e semmai rinnovò l'intesa con Firenze tornata al guelfismo quindi ecco se c'era stato un periodo in cui erano state nominalmente contrarie Arezzo Firenze curiosamente Arezzo era guelfa e Firenze di Bellina fra 60 e 66 poi invece appunto si rinnova l'alleanza perché Firenze torna al guelfismo e così in effetti è comprensibile come mai dal 1269 scomparsa non solo fisicamente ma anche politicamente Manfredi il nuovo astro della politica italiana è Carlo D'Angio e dal 69 in Toscana il suo potere vuol dire molto quindi dal 1269 nella regione prevalse l'alleanza D'Angioina anche Arezzo vi entrò e ricevette Podestà che erano nominati direttamente dal re di Sicilia nel 1274 c'è la fine della prima esperienza popolare a Retina ci fu un colpo di mano forse col benestare di Carlo e il governo il governo popolare fu rovesciato il Davidson che ha esaminato la cosa ma secondo me non con troppa attenzione beh lui studiava Firenze più che Arezzo suppose che la vera regista fosse la parte guelfa fiorentina che avrebbe appoggiato quella retina per cercare di appunto far cadere il regime di popolo che non stava bene neanche ai guelfi perché insomma i guelfi di cui stiamo parlando sono i guelfi arrabbiati il popolo era guelfo ma vagamente insomma in maniera moderata le prove che il Davidson portò di questa cosa non sono molto probanti lui cita un presto eccetera ma avviene molto tempo dopo quindi secondo me sì quindi può essere che sotto ci fossero anche i guelfi fiorentini ma forse sotto c'era il volere di carne insomma fatto sta che la politica interna di Arezzo vede una prima scomparsa del regime popolare che però dura poco nel 1277 torna il regime popolare ad Arezzo il regime popolare è un cambiamento di politica interna in realtà nelle alleanze esterne non vuol dire molto c'è sicuramente un mantenimento dell'alleanza fiorentina l'alleanza ripeto che finché comunque predominò in Toscana Carlo D'Angio voleva dire essere tutte e due dalla stessa parte con Carlo D'Angio ecco è un'alleanza un po' imposta dall'alto prosegue la conferenza con Gian Paolo Scharfe in questo confronto tra Arezzo e Firenze nel periodo dantesco nei primi anni 80 c'è una contesa fra il comune e il vescovo Guglielmino per il controllo della val d'ambra questa contesa che nasce in maniera pensiamo abbastanza casuale delle dispute su alcuni castelli finisce una vera e propria guerra aperta fra vesco e comune Firenze non partecipò a questa guerra non la riguardava però sappiamo dalle fonti fiorentine che stava molto a guardare e attenta a quel che succedeva a Arezzo perché le interessava sapere soprattutto perché la val d'ambra è quasi a confine col territorio fiorentino cioè è a confine col territorio fiorentino non con la diocesi e quindi era una cosa importante sapere che piega avrebbero preso gli eventi e veniamo all'altro anno secondo me molto importante la storia a retina del 200 il 1285 il vescovo sempre attivo nella sua politica personale aiutò i ghibellini senesi che erano nel frattempo fuoriusciti Siena come sapete aveva cambiato allineamento e erano fuoriusciti e volevano ribellare il castello di Poggio Santa Cecilia che era controllato pur essendo diocesi di Arezzo era controllato dai senesi e era un buon punto di partenza per eventuali puntate contro Siena quindi grazie all'aiuto del vescovo i ghibellini sinesi riuscirono a prendere il castello a fortificarsi la cosa però non ebbe esito perché il comune senese poi tornò in massa in forza e riprese il castello e giustiziò i principali responsabili la cosa interessante è che anche qui il Davidson interpreta secondo me male una fonte dicendo che il comune retino in questo momento era ormai ormai già ghibellino e quindi aiutava aiutava diciamo i ghibellini senesi perché le fonti parlano di intervento del comune retino in questo ripresa di Poggio Santa Cecilia ripresa che secondo me non avrebbe avuto bisogno dell'intervento da retino quindi bastavano già i senesi però in realtà secondo me le fonti vanno interpretate appunto il comune retino va a aiutare i senesi guelfi a riprendere il castello contro i ghibellini che sono dentro e non il contrario e questo anche pur essendoci fra gli sponsor di questa ribellione il vescovo anzi secondo me proprio per questo per dimostrare la sua contrarietà al vescovo non dimentichiamo appunto che Davidson conosceva bene le fonti retine ma in questi sono anni in cui vescovo e comuni a retino si affrontano militarmente proprio peraltro in questo è un anno molto importante dicevo non tanto per questo evento che avviene un po' ai margini del territorio a retino ma perché in città c'è un nuovo cambio politico il regime popolare moderato attivo fino a quel momento cambia in un regime ultra popolare quello che ho definito il bienio rosso a retino in cui praticamente predominano le piccole arti perlomeno vanno al potere non dico i cionpi come a Firenze ma insomma sicuramente è un momento in cui di massima democratizzazione diciamo così del regime a retino questo cambio dispiace sicuramente al vescovo e ai magnati a retini che si vedono emarginati anche se non eliminate la scena politica e questo regime ultra popolare non ha abbastanza forza per dire voi adesso basta statevene da parte però sicuramente non contano più come prima e sicuramente quindi a loro dispiace però forse non dispiace al regime popolare fiorentino che in questo momento non era ancora così ultra popolare ma che lo diventerà pochi anni dopo con la nota impresa di Giano della Bella nel 1287 però questo esperimento politico finisce e con un celebre duplice colpo di mano da prima i magnati a retini uniti guelfi e ghibellini rovesciano il governo popolare e poi i soli ghibellini prendono il potere mandando fuori i guelfi e come figura carismatica che può prendere la signoria città naturalmente c'è solo il vescovo che è stato più di un capo partito questa è una cosa che appunto preoccupa moltissimo i fiorentini che appunto da anni ormai tenevano d'occhio la politica retina ma c'è anche da pensare alle pressioni dei guelfi che in massa si erano a questo punto rifugiati a Firenze e che vogliono rientrare in forza in città quindi questo fa precipitare le cose nasce un confronto aperto fra Firenze e Siena che si allea con Firenze da una parte e Arezzo dall'altra sappiamo già come è andata a finire e come non poteva che andare a finire Firenze e Siena contro Arezzo non c'era storia diciamo così eppure insomma il confronto diretto non avviene subito per due anni dal 1287 al 1289 il confronto di Siena viene sfiorato più volte ci sono abortite battaglie e comunque questo che viene abbastanza dimenticato nel 1288 gli aretini riescono a sorprendere i senesi isolati a Pia Valtoppo come come dice anche Dante e e li sconfiggono purtuttavia questo non non li salva della sconfitta abbastanza disastrosa l'anno dopo a Campaldino a questo punto le cose precipitano ad Arezzo è chiaro che si trova accerchiata da numerosissimi nemici da una situazione molto grave anche interna e quindi Arezzo cerca di di tappare diciamo i principali buchi e la prima cosa per rompere l'accerchiamento Arezzo fa una pace l'anno dopo cioè il 1290 con Città di Castello che era entrata nell'alleanza antiaretina davvero non era così preoccupante però avere un ulteriore fronte poteva essere pericoloso e in città il governo si stabilizza si cerca come spesso capita in queste situazioni l'uomo forte e in questo momento sale l'astro nascente di Guccione della Fagiola perché è un militare innanzitutto promette la rivincita il revancismo è sempre d'essere insomma nelle città nelle nazioni sconfitte sono anni naturalmente molto tormentati per Arezzo perché non solo è agitata da problemi esterni ma anche da una spaccatura che si rivela poi fondamentale all'interno del fronte Ghibellino che a questo punto è rimasto in città l'unico padrone diciamo della scena politica il fronte Ghibellino si spacca in due e come è abbastanza celebre i due partiti si chiamano i Verdi e i Secchi Firenze indubbiamente che avrebbe potuto approfittare tenere sotto pressione Arezzo che in questo momento si trova anche divisa in due politicamente si trova in realtà con un problema abbastanza simile perché anche i Guelfi che dominavano Firenze si spaccano fra bianchi e neri con note vicende che portano poi come si sa all'esilio di Dante stesso quindi nel primo Trecento vediamo che la contesa nata con Campaldino in realtà non nata con Campaldino ma sfociata in Campaldino tende a raffreddarsi non c'è all'inizio del Trecento una vera e propria pace non c'è mai un cessate le armi definitivo ogni tanto ci sono alcuni scontri di minore portata ma in effetti la contesa fra Firenze e Arezzo va perdendo importanza per entrambe le città perché hanno altri problemi hanno anche altri interessi Arezzo infatti pensa bene i suoi politici se vogliamo ma sicuramente anche i cittadini che le maggiori rivincite si possono avere non verso Firenze o Siena ma in un'altra direzione soprattutto in Umbria e infatti i primi anni del Trecento sono anni di grande espansionismo aretino in Umbria e nelle zone appenniniche proprio perché c'erano nemici meno potenti poi c'è la nota parentesi di Arrigo VII stiamo parlando appunto degli anni 1311 13 in cui Arrigo l'imperatore scende in Italia come è noto cerca negli intenti una pacificazione generale d'Italia per poter poi unire le forze verso un unico obiettivo questo era il suo progetto progetto che non viene capito o forse anche viene volutamente frainteso ma insomma destra un po' troppe resistenze e alcune città gli si oppongono fieramente naturalmente l'imperatore in questo caso regisce in maniera abbastanza netta ed è il caso appunto di Firenze che non vuole ricevere i messi imperiali e a quel punto effettivamente Arezzo partecipa all'esercito imperiale contro Firenze esercito che non riesce a risolver granché però insomma c'è quindi un'effettiva partecipazione di Arezzo in operazioni contro Firenze c'era già stata nel 304 un tentativo di colpo di mano ma non voglio riempirvi di date quindi Arezzo a questo punto raggiunge una pace interna la pace interna vede come protagonisti sia il sia il il nuovo vescovo De Brandino Guidi sia lo sponsor diciamo così dell'imperatore appunto il programma di una pace interna era nelle idee dell'imperatore quindi possiamo dire che la nota pace di Civitella fa contenti un po' tutti in realtà sappiamo non avrà un grande esito in seguito però insomma comunque è un momento in cui si trovano più o meno tutti accordo a cercare la pace e quindi questo anche prepara l'affermazione di Guido Tarlati che diventa signore in 1312 scusate vescovo in 1312 dopo la morte di De Brandino e perché anche politicamente Guido Tarlati si presenta come un pacificatore come il continuatore della politica del precedente vescovo e in un certo senso quindi anche di quella imperiale quindi con questa veste è bene accetto i primi anni sono sicuramente anni che sono di un personaggio che è abbastanza accettato da tutti e finalmente nel 1314 appunto per me la data finale perché viene conclusa una pace fra due città una pace dell'intenzione definitiva nel 1314 che poneva termine a più di un ventennio di guerra d'accordo gli anni veramente guerraggiati erano stati pochi ma effettivamente se vogliamo dire un periodo in cui Firenze e Arezzo erano stati effettivamente in guerra fra di loro è stato fra 1287 e 1314 l'annosa contesa appunto appare conclusa non sarà così però insomma per qualche anno e questo è favorito anche al fatto che l'aggressività che subito in realtà Tarlati dimostra politicamente e militarmente viene dirottata in altre direzioni l'Umbria o appunto le Marche e Arezzo è attenta a non farsi coinvolgere del resto molto nelle situazioni che si sviluppano in Toscana e che possono vedere i fiorentini contro i propri interessi per fare un esempio alla battaglia di Montecatini dove Firenze ha preso una sonora batosta da Uguccione e il gli aretini non partecipano il comune aretino non partecipa però attenzione perché probabilmente alcuni dei cavalieri compreso se non ricordo male uno dei fratelli di Guido era presente quindi è una politica piuttosto attenta cercando di non scontentare quel pericoloso e potente nemico che si era di nuovo fatto alleato almeno nominalmente e quando finalmente nel 321 Guido Tarlati fu nominato signore della città tutto sommato se vogliamo fare un bilancio definitivo finale i rapporti fra le due città Firenze e Arezzo erano passabili erano improntati ormai non più a un'alleanza sicura e come dire in qualche modo duratura come era stato la prima metà del 200 però indubbiamente si era in una situazione di pace di spartizione delle zone influenze che poteva avrebbe potuto anche garantire in seguito anni di pace non fu così ma questa indubbiamente è un'altra storia ecco è un'altra storia Grazie a tutti.